Curiosa di conoscere un territorio ricco di bellezza e di cultura, ma anche e soprattutto desiderosa di dare il suo contributo per renderlo più sicuro e vivibile. Si presenta così in un incontro ufficiale con la stampa e il nuovo prefetto della provincia di Barletta, Andrea Trani, la dottoressa Maria Antonietta Cerniglia. Prende il posto di Clara Minerva dopo aver ricoperto negli ultimi sei anni il ruolo di vicario del prefetto nella provincia di Messina. Dal 1991 al 1997 ha prestato servizio presso la prefettura di Lucca, poi successivi otto anni divisi tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, attività per le quali ha ricevuto numerosi encomi e benemerenze. Felice e motivata per l'incarico ricevuto, il prefetto Cerniglia è pronta a togliersi le sue soddisfazioni anche in questa nuova avventura lavorativa. Sono veramente molto lieta, lieta della nomina ma lieta di essere proprio in questa provincia. Per me è una bella sfida e spero di poter ottimizzare l'impegno del Palazzo del Governo su questo territorio. Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri con i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Servirà un efficace lavoro di squadra, dice, per organizzare le attività a tutela della sicurezza di questo territorio. Gli obiettivi fondamentali sono quelli della sicurezza. Il Ministero dell'Interno è un ministero che opera sulla sicurezza, ma in un'accezione lata. Io la definisco sicurezza civile che protesta l'affermazione della migliore società civile. Quindi sicurezza nelle sfaccettature della security e della safety. Attenzione quindi alla sicurezza, al contrasto, alla criminalità anche organizzata, anche non solo contrasto ma soprattutto prevenzione. E la safety con attenzione anche per l'ambiente e all'attività di protezione civile. Tra le emergenze da affrontare nella provincia Bat, sottolinea il nuovo prefetto, anche il contenimento dei flussi migratori. L'emergenza di questo territorio sono le emergenze che riguardano il territorio nazionale, ripeto, quelle che riguardano in particolar modo la sicurezza, un'attenzione anche per il fenomeno dell'immigrazione, che va naturalmente razionalizzato, contenuto, è nato come emergenza, ma adesso è diventato un fenomeno strutturale, strutturato. Quindi va attenzionato, ma va attenzionato all'attività di tutto il territorio, anche la promozione delle attività. Questo io so che è un territorio ricco di cultura, di bellezza, di spiritualità ed è questo che io voglio promuovere e ottimizzare. La provincia Bat è ancora sprovvista di questura e comando provinciale dei carabinieri. Si tratta di presidi importanti, conclude il prefetto Cerniglia, alla cui realizzazione verrà data la massima priorità. Questo è l'aspetto logistico che attenzionerò ed è stato oggetto dei miei colloqui e col personale. Oggi con i dirigenti delle aree, perché è un aspetto che ha un ruolo preeminente e mi applicherò affinché questa provincia sia dotata dei necessari presidi, in modo da poter operare nel migliore dei modi.